Ciao a tutti ragazzi, io Piccettino e il mio congiuntivite che sta leggermente peggiorando Come potete vedere siamo qui oggi per fare un bel saltone con un po' di ritardo nel numero 385 del Buon Vecchio Zio Martin Eccoci qui, perché dico con un po' di ritardo? Perché è uscito il 10 marzo 2022, oggi è il 21, primo giorno di primavera Insomma, fate 2 più 2, siamo arrivati una decina di giorni dopo, ma lo trovate in tutte le edicole Cosa trovate? Trovate un albo da 98 pagine di cui ho tanta di storia, Martin Misteriana come non mai Tanti redazionali, tanti extra, tanta carne per i pesci, usiamo un'espressione che mi sta piacendo Da dare in posto a noi lettori, ovviamente formato Bonelli, che più Bonelli non si può Martin, tra non molto, compirà 40 anni, il prossimo mese Già si può dire che qualcosina di festeggiamento si è iniziato Guardate un po', Alessandro Muscillo e Giancarlo Alessandrini ci danno una piccola anticipazione Questo è il numero 1 di Martin, l'anno prossimo fa 40, il mese prossimo, scusate, fa 40 anni Tondi, tondi, si è dentro la busta, difficilmente imbusto le cose, questo l'ho imbustato E ragazzi, vedete, piccolo omaggio pre-quarantennale, però fatto veramente bene La copertina è fighissima, dà molto bene l'idea di quello che è Martin Misteri Un qualcosa di base scientifica, cioè ragazzi si chiama L'ombra di Michelangelo Abbiamo Michelangelo Monarroti, abbiamo un affresco che sta dipingendo un affresco con questo Martin Cioè è bellissimo, dà proprio un senso quasi riassunto di quello che è Martin Cioè storia con questa sua rivisitazione, con questo suo entrare in maniera a gamba tesa Potremmo anche dirlo, nella storia e prendere i personaggi Insomma, ragazzi, il cuore di Martin in parte io lo vedo in questa copertina Che tra l'altro è anche molto gradevole da vedere Quindi davvero bellissimo, bellissimo lavoro In edicola ha il suo perché, spicca abbastanza Io ci ho fatto caso stamattina passando, sono andato a prendere delle cose, l'ho rivista E bella, bella anche da vedere in edicola Quindi davvero al bacio, i miei complimenti PS, ragazzi, 40 anni il prossimo mese Significa che Giancarlo Alessandrini farà 40 anni il prossimo mese di copertine in interrotte per Martin Beh ragazzi, un applausino ci starebbe, eh E ora entriamo dentro l'albo, eh Lo apriamo, fronte spizio ragazzi, ma che meraviglia Io questa la vorrei vedere senza le grafiche, come litografia da appendere a casa È bellissima, davvero Qui, quando l'ho aperto ho detto Avete presente il vecchio pozzetto? Eh, la madonna, ecco, uguale Cioè, bellissimo, uno dei fronte spizio più belli che abbia mai visto In generale, davvero, complimenti Purtroppo non tutto è così bello Perché il maestro di Martin, Mino Milani Che purtroppo è venuto a mancare E qui abbiamo dei ricordi, dei momenti che Alfredo Castelli butta nella presentazione Nella maniera più, ehm, ironico, malinconica, celebrativa che, che possiamo trovare Insomma, è un Castelli che sa scrivere, sa esprimere emozioni e qui lo fa Quindi vi lascio leggere Ovviamente non ci sarà soltanto, soltanto quello Avremo anche altri festeggiamenti Perché è vero che Martin ne fa 40 Ma lo Mino Buffo ne fa 50, per dire Quindi, ragazzi, leggetevi perché scoprirete un sacco di cose E poi, tra l'altro, è molto bello l'omaggio che viene fatto La chiacchierata su Mino Milani Quindi, davvero, bravissimo Alfredo Castelli Non devo dirvelo io, però, che lui è bravissimo Andiamo un po' più in fondo E troviamo Fantasmagoria I misteri di misteri Cosa c'è di vero, cosa c'è di inventato Nel racconto a fumetto che avete appena letto Eccolo qui, codice Michelangelo E qua, ragazzi, abbiamo un bel approfondimento Proprio dedicato al buon vecchio Monarroti Al buon vecchio Michelangelo E, ragazzi, io qua vi posso solo invitare a leggere A leggerlo e a guardarlo E anche a scoprire cose che, beh, onestamente io non sapevo Soprattutto sull'errore di copertina Leggendolo capirete, bellissimo Io, veramente, quando leggo queste cose Sento la mancanza dei vecchi almanacchi del mistero Ma perché proprio erano qualcosa di fantastico Con cui, per fortuna, abbiamo delle pillole almanaccose Che rendono benissimo Prosegue con Carlo Cappi Quasi alla fine, ormai Il suo romanzo del potere del falco Quindi qui, tra non molto, avremo il finale Vi confesso che non lo sto leggendo Lo leggerò tutto d'un fiato Non mi piace la pubblicazione così appuntata Onestamente non mi esalta particolarmente Quindi lo leggerò tutto di fila Anche perché alla fine non sono tantissime pagine Essere onesti Quindi me lo sparerò tutto di fila E poi ne parleremo in separata Andiamo avanti E troviamo Vabbè, ragazzi Troviamo Ah, scusate Mi dimentico sempre che ci sono anche Una piccola strisciolina dei Bonelli Kids Che mi piacciono Sì e poi no A volte sì, a volte no Devo essere onesto E poi c'è la chiusura Con Fantasmagoria Abbiamo ovviamente un vecchio zio Boris Che qua ci fa un po' vedere Come mai il Covid si riproduce così tanto Ed è figata Io rido tantissimo per queste Presentazioncina del prossimo numero Per i 40 anni Questo abbiamo già parlato E consiglio Da libreria E questo ve lo consiglio pure io Non penso di comprarlo Perché le storie incluse Le ho già tutte Però mai dire mai E ora Entriamo Nell'albo Ai disegni Una mano femminile E ragazzi Abbiamo Michela De Sacco Da ragazzi Tanta roba Disegni Classicamente misteriani Quindi nulla di stravolgente Nulla di particolare Abbiamo il buon Vecchio Martin Sia giacca e cravatta Sia versione Diciamo più avventurosa Proverete un po' più in fondo Vediamo se riesco a farvelo vedere Sì eccolo Quindi niente di nuovo sotto il sole Per quanto riguarda ciò che Martin Ci ha sempre dato Quindi figata Incredibile Di unione tra realtà Monumenti Personaggi storici Flashback Relativi al personaggio storico Martin all'ennesima potenza Disegnato Strabene Cioè Martin ha un che Quasi di aristocratico Nel tratto di Michela De Sacco Mi piace tantissimo Dimostra Dimostra la sua età Così magari alcune Qualche piccola espressione Un po' deformed Però diciamo che La base mi piace Perché dimostra un po' la sua età Martin non è un giovincello Ma senza essere un vecchio decrepito Cioè Si riesce a percepire la Non l'anzianità Però l'età di Martin Senza dare quell'idea Di Vabbè come cacchio fa questo Si percepisce C'è un bel amalgama Questi disegni Mi sono davvero piaciuti Espressivi Belli Fighissimi E ovviamente abbiamo Un inserimento Di figure Femminili Che serviranno Che serviranno Per il continuo Della storia Che sono ben rappresentate Davvero Io vi dico Che sono Sono stato molto molto Entusiasta di questi disegni Cioè Michela De Sacco Mi ha colpito Davvero Anzi vi dico di più Stavolta mi voglio sbilanciare Ragazzi Con Michela De Sacco Mi è quasi tornata la voglia Di prendere il foglio bianco Alla fiera E chiedergli uno sketch Perché davvero Il suo Martin Mi è stra-piaciuto Cosa che non farò ovviamente Però Questa cosa Mi è piaciuto Davvero Bello bello I miei complimenti Posso soltanto dire Che ci siamo Martin Il mese prossimo Compie 40 anni E noi leggiamo Guardiamo Sfogliamo Dei disegni Che sono freschi Belli E classici Nella struttura di Martin Io onestamente Più di così Non so cosa dire Quindi Cara Michela De Sacco Sarà che mi fa simpatia Il tuo nome In quanto è quello Di mia moglie Non lo so Però ti posso dire Bravissima I miei complimenti Anzi Speriamo di vederti ancora Su Martin Ed eccoci qui a parlare invece Dei testi Di Francesco Matteuzzi Francesco Matteuzzi Introduce Vittorio Baldi Che è oggi Un professore di storia dell'arte A Roma Ma che è un ex compagno Di università Del nostro caro Martin E riesce a portare Il buon Martin A Roma Beh ragazzi Sarà il fatto Che io sono un po' Nostalgico Dei vecchi misteri italiani Non so se vi ricordate Quando negli anni 90 Martin Fece una lunga Trasferta A In Italia Con il discorso Ai misteri italiani Che abitava in via Dell'Anguillara 2 A Firenze Era una figata Ecco E girò un po' I misteri italiani Ecco Quando ritorna in Italia Mi fa piacere Quindi Questa storia Già parte Avantaggiata Scopriamo Vabbè scopriamo Il solito Java Che Classico turista Americano Java Java ha questa componente Fanny Quasi involontaria Che però a me Fa sempre morire Quindi qua è anche divertente Come vi è tratteggiato Java Molto molto bravo Ecco diciamo che Qui utilizzando Uno stratagemma Abbastanza Diciamo Canonico Quindi con il discorso Del Del documento Ritrovato E rubato Parte un'indagine Che porterà Al A far scoprire A Martin Alcuni segreti A ritrovare I buon vecchi Uomini in nero In un certo senso Ci sarà anche L'ombra Di altrove Di tower Tutto questo In questa storia Che porterà Martin A fare un bel giro Lungo 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 Non vi dico Dove si va A concludere Che non sarà In Italia Sarà in mezzo A un bel deserto E' interessante Davvero Una storia interessante Perché unisce Un po' Il buon Michelangelo Che è sempre una figura Da approfondire Per ciascuno Per ciascuno di noi E piano piano Ti costruisce Piccoli punti Di interesse E ti porta Ad una vicenda Che definire Quanto meno Particolare Ovviamente È molto canonica Nel suo essere Martin Misteriana Cioè Arriveremo a dei punti Delle cose Che in parte Abbiamo già visto In tanti altri Numeri di Martin Però risulta comunque Fresca E bella da leggere Ecco Io Mi sono Mi sono sentito a casa Leggendo questa storia Mi sono sentito felice Di essere un lettore di Martin Mi ha dato Proprio una bella scossa Martin Misteriana Che vuol dire Entrare In una storia Canonica In un certo senso Abbastanza lineare Forse in alcuni momenti Ti verrebbe quasi Da dire Sì vabbè Un po' Impossibile Certe cose Ma lui è il determinato Tecnic dell'impossibile Ragazzi Se non è impossibile Quello che leggiamo con lui Dove dobbiamo andare A trovare l'impossibile Insomma Mi ha dato una bella Un bel senso Di cacchiarola Sto leggendo Martin Misteri Cioè punto Più di così Non voglio chiedere Non posso chiedere Questa testata Vi ripeto Testata che ha quasi 40 anni Il prossimo mese Ne farà 40 E leggere questo albo Che va benissimo Anche per una persona Che Martin Magari non l'ha mai letto O ha letto qualcosa Sporadicamente Questo albo è perfetto Lo prende Lo legge Trova Una bella vicenda Lineare In parte anche Semplicistica In alcune cose Ma è giusto così Che però unisce Verità storica Personaggi Indagine Cioè è bella Ecco io non ho altre parole Davvero bella Bella da leggere Sono i volumi così Che mi fanno capire Perché Martin Da 40 anni Se ne sta bello Comodo In edicola E ogni mese Sappiamo che è lì O meglio Prima ogni due Adesso ogni mese Sappiamo che è lì Perciò davvero Complimenti Io posso soltanto dire Wow Caro al mio Francesco Matteuzzi Complimenti Davvero Complimenti E noi ci vediamo Il mese prossimo Con Martin Perché Questo personaggio qui Il prossimo mese Fa 40 anni Lo sento tanto Perché quest'anno Li faccio pure io 40 anni Quindi ragazzi Il buon vecchio Martin Il prossimo mese Festeggiamo alla grande Ma no Intanto Anticipate i festeggiamenti E andate a comprarvi questo Ne vale la pena Ah non l'ho detto Storia completa Pacchetto completo A parte il romanzo di Capi Che è l'undicesima puntata Se non sbaglio Il resto È totalmente capibile È totalmente leggibile Da chiunque Perciò Non vedo nessun motivo Per cui dirvi di no Andate E Comprate